Si chiama l'intervista e avrà accadenza settimanale. È la nuova rubrica che 105 TV proporrà il venerdì dopo i telegiornali. A curarla sarà l'Accademia dell'Università Popolare del Cilento, riprendendo in questo modo un'antica tradizione che risale al programma dialettevole condotto dal compianto professore Giuseppe Vallone. La nuova rubrica sarà un'occasione di approfondimento delle vicende e della cultura del Cilento. Raffaele Alliegro, giornalista e il rettore dell'Accademia, intervisterà ogni settimana un personaggio diverso per fare il punto sui temi più interessanti che riguardano la vita delle comunità e per illustrare i programmi e i progetti che l'Università Popolare ha intenzione di realizzare. Gli intervistati saranno professori universitari del Senato Accademico dell'Università, amici dell'Accademia, personaggi che vivono nel Cilento o hanno deciso di trasferirsi nel territorio più a sud di Salerno, personaggi con competenze specifiche nelle materie e negli argomenti che l'Università ha intenzione di approfondire e divulgare. La prima puntata andrà in onda dopo i telegiornali di venerdì prossimo 20 ottobre. Il debutto è stato affidato al presidente dell'Università Popolare del Cilento, l'avvocato Andrea Baldini, cilentano d'adozione, che parlerà del suo rapporto con il territorio e dei programmi che l'Università ha già messo in cantiere per quest'anno. Grazie a tutti.